ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di una novità che è passata dall'eco show 15 il fratello maggiore dei nostri dispositivi con schermo ai nostri più piccoli l'8 e il 10 di cosa stiamo parlando un attimo prima chi non si è iscritto gli ricordo di iscriversi al canale e attivare la campanella così da non perdere i prossimi video che arriveranno qui sul canale e perché no se il video vi è piaciuto lasciare anche un bel mi piace detto questo procediamo col video nel video di oggi come dicevo all'inizio presentiamo la novità sui nostri eco show 8 e 10 in questo caso io vi presento questa novità sull'eco shot stiamo parlando della possibilità dei widget quindi tutto quello che faceva il fratello maggiore adesso anche i fratellini e le sorellina con eccesso dagli possono farlo anche loro come fare prendete il vostro eco show e scorrete semplicemente col dito da destra verso sinistra vi si aprirà la galleria dei widget cosa sono i widget semplicemente come avevo fatto un video per quanto riguarda l'eco show 15 sono quelle funzioni a colpo d'occhio che vi gestiscono la giornata nel senso che voi nella home page potete inserire l'orario naturalmente la temperatura quindi il meteo avete la possibilità di mettere anche i vostri appuntamenti le playlist preferite in modo tale che a colpo d'occhio riusciate a vedere se avete degli impegni se avete lì a portata di mano a portata di dito soprattutto la vostra playlist preferita e così via avete anche una parte dedicata ai dispositivi diciamo un po risicata ma comunque c'è e poi avete la galleria dei widget qui potete andare a togliere e ad aggiungere i widget che vi interessano quindi se per esempio avete anche delle skill preferite potete tranquillamente farlo ci sono addirittura le note c'è le foto preferite giallo zafferano per dirne una insomma avete la possibilità di inserire tutto quello che volete per averlo sempre a portata d'occhio questa era una grande novità che viene ampliata sui anche gli ecosciotto e 10 e naturalmente appena l'ho letto ha detto ma perché non informare i nostri iscritti ragazzi stiamo per arrivare ai 10.000 un traguardo molto importante per noi e quindi vi chiedo di supportarci e farci crescere ancora io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi